Onorevole Fontana, in questo momento in Turchia ci sono scontri e disordini. A che punto è il processo per l'ingresso in Europa di questo paese? Diciamo che fortunatamente, anche grazie alla nostra azione, il processo negli ultimi anni si è fermato. Si è fermato, diciamo, oltre che per ovviamente le evidenti incompatibilità che ci sono fra la Turchia e l'Europa, anche perché la Turchia non sta portando avanti quelli che sono i diritti umani e non sta portando avanti quelle che possono essere le prerogative che richiedono un accesso all'Unione Europea. Pensiamo solo ai giornalisti incarcerati, pensiamo solo al fatto che per esempio la rivolta che si sta verificando in questi giorni è proprio una rivolta per la laicità dello Stato, perché negli ultimi anni la Turchia invece di andare verso un paese laicizzato dove vengono rispettate le minoranze, sta tornando ad essere un paese abbastanza islamizzato. Proprio grazie al suo presidente Erdogan. Purtroppo diciamo che è un processo che sì si è fermato, ma che va avanti sui finanziamenti. Ossia l'Unione Europea negli ultimi sette anni ha dato circa 5 miliardi di euro alla Turchia come fondi di preadesione per tante cose, per infrastruttura, occupazione, eccetera. Addirittura nei prossimi sette anni potrebbe dare circa 7 miliardi di euro alla Turchia, che ricordiamocelo a un PIL che quest'anno supererà il 3%, quindi non si capisce perché l'Europa che ha tanti paesi, tanti popoli che stanno sicuramente male, debba continuare a finanziare uno Stato che economicamente sta meglio dell'Europa stessa. Noi tenteremo appunto di togliere questi finanziamenti alla Turchia perché riteniamo che sia una questione totalmente assurda. Secondo lei bisogna rivedere il trattato di Schengen? Ma sì, la questione di Schengen sicuramente è una delle questioni principali in Europa che deve essere riviste. Noi vogliamo chiedere che si possa appunto cambiare questo trattato, probabilmente faremo una raccolta firme, visto che adesso il trattato di Lisbona dà la possibilità di raccogliere le firme da parte dei cittadini europei per appunto cambiare i trattati internazionali, perché Schengen purtroppo ha il problema che permette la libera circolazione dei cittadini europei in tutta Europa. E questo ha causato, soprattutto dopo l'entrata dei paesi dell'Europa dell'Est, un afflusso assolutamente incredibile anche da noi e di qualsiasi tipo di persona. Ci sono sicuramente tante persone brave dall'Europa dell'Est che vengono e che lavorano, purtroppo sappiamo che ce ne sono tante altre che invece magari pensano di venire nei nostri territori a delinquere. Ed è per questo che una riforma e una rivisitazione di Schengen deve essere assolutamente fatta, altrimenti l'Europa, così com'è con questo trattato, rischia sicuramente di essere mal vista da tutti i cittadini europei. E a proposito di confini, la Lega Nord continua la battaglia in Europa per la tutela del Made in Italy? Sì, diciamo che purtroppo è una vicenda che si ripete costantemente. Le qualità e i prodotti di qualità italiani e del Nord vengono sempre più spesso replicati, ovviamente non con la stessa qualità, nel resto d'Europa e non solo. È una battaglia che è vitale per le nostre produzioni perché sappiamo che a livello concorrenziale noi siamo sfavoriti da tanti fattori, soprattutto dal costo del lavoro ma non solo da questo. e dobbiamo puntare sulla qualità, però significa anche riuscire a tutelare le nostre produzioni dai falsi prodotti che vengono appunto fatti all'estero. Questa battaglia che ormai da anni stiamo portando avanti ci ha trovato però in difficoltà perché spesso e volentieri altri paesi che evidentemente hanno interessi molto differenti rispetto ai nostri bloccano qualsiasi tipo di iniziativa. Noi comunque sicuramente continueremo ad andare avanti perché riteniamo che se vogliamo effettivamente difendere le nostre produzioni, una delle situazioni fondamentali che dobbiamo riuscire a portare a termine è quella di fare in modo che queste produzioni siano certificate e appunto si riesca a capire perfettamente da dove queste produzioni arrivino. Credo che l'Europa debba anche capire che se vuole essere sentita dai cittadini e dai produttori in maniera diversa da come è sentita in questo momento, deve farsi carico di proposte di questo tipo e deve far capire che la sua funzione è anche quella di tutelare le produzioni di qualità.